Buongiorno a tutti e benvenuti alla Rassegna Stampa Occhio ai Giornali. Il commento alla stampa del giorno in diretta alle 7 del mattino su Fano TV, canale 17 del digitale terrestre, visibile in tutta la regione Marche. Allora cominciamo dal santo di oggi, poi vediamo il tempo e subito i giornali. Dal calendario vediamo la santa di oggi, Santa Sara di Anchiochia, il sole è sorto alle 6.19, tramonterà alle 20.01. La copertina di trebimeteo.com, Italia ostaggio dell'instabilità, ancora rovesci, temporali, grandi nel neve, clima fresco. Andiamo a vedere subito il dettaglio con la nostra regione. La mattina si apre così, con questa fotografia, con le Marche interessate da sole e nuvole, ma il pomeriggio, il pomeriggio che ci regalerà ancora qualche goccia di pioggia sulla collina, qualche temporale invece sulla catena appenninica della nostra regione. Andiamo a vedere invece mercoledì, domani, domani, dov'è? È fuggito domani, aspetta, dov'è il domani? Del domani non c'è certezza. Ecco, eccola qua, mattina, pomeriggio e sera, ma è giovedì, andiamo a vedere anche giovedì, visto che domani non c'è nulla da dire. Ecco, il giovedì questa è la situazione. A partire dalla notte, vedete, poi la mattina sarà, insomma, soprattutto esclusa un po' la costa pesarese, dove ce ne sarà un po' meno di pioggia, ma per il resto sarà, insomma, un temporale pioggia dappertutto. Andiamo adesso a vedere invece i giornali. Perché? Perché il Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, apre con la notizia che i numeri continuano in tutta la regione a essere numeri sostanzialmente buoni e che ci consentiranno venerdì prossimo, quando arriverà, come sempre, dal governo il colore che rappresenterà la regione nella prossima settimana, c'è questa notizia che, insomma, ci mette in zona gialla. Le Marche chiudono la settimana del report con le carte in regola per la riapertura del 26. Poi si parla di mini-hub, cioè mini-centri vaccinali, e fanno che è in pole position per la sperimentazione. In questi piccoli hub, quindi non quello del CODMA, per esempio, ci saranno i medici di legge generale che faranno queste vaccinazioni. Pesaro, invece, è più incerta per questi mini-hub. Mentre a centropagina, eccola qua, la fotonotizia con la foto di due agenti di polizia che controllano le strade. Sono quattro i comuni dove arriva la stretta, l'area del Pian del Bruscolo e Acqualagna. Questi quattro comuni, più quello anconetano-ceretodesi, che finiscono in zona micro, zona rossa o arancione rafforzato, come vi piace di più. Però, ecco, questa è la notizia del giorno. Poi, caccia de ors del Centro Storico a Pesaro, maggiori richieste, si stanno organizzando i ristoratori, quelli che non hanno i posti all'aperto, e lo fanno per poter iniziare a lavorare dal prossimo 26 di aprile. Quando i ristoranti potranno aprire, lo ricordiamo, anche di sera, ma solo quelli che lavorano all'aperto. Le scuole di musica abbiamo superato l'ostacolo della DAD, e poi cassa integrazione per marche multiservizio, zero ore, e adesso vuole anche assumere. La Polonia al setaccio per ritrovare la figlia, il padre è riuscito a riportare a Pesaro la bimba, la madre è a processo per sottrazione di minori. Il carino di Pesaro, scuola e i trasporti restano un rebus, rientro al 100% in presenza per le superiori, oggi summit con i prefetti, incubo, doppi turni e ingressi scaglionati. A centropagine, invece, blindati quattro comuni, Valefoglia, Montelabbate, Tavuglia, Acqualagna, tutti rossi, fino al 25 aprile compreso. Spostamenti vietati in entrata e uscita dei territori, se non motivati, da lavoro, necessità e salute. L'ordinanza anticontagio interessa circa 35 mila persone. Poi, sui caregiver, cioè quelle persone che aiutano gratuitamente a casa le persone in difficoltà, prenotazioni ok per i vaccini, autocertificazioni contro i furbetti. Poi la protesta, ristoratori senza deorsi, i tavoli li metto nella strada. E poi il premio nonni del resto del Carlino, ecco tutti i ragazzi premiati. Sotto, invece, WL batte Bologna, i due punti sono sicuri. Basket ancora respinto, ricorso fortitudo, poi calcio svilito. I tifosi bocciano la Superlega, un campionato riservato alle sole big, annullerebbe i principi di sportività. Allora, naturalmente, quando è arrivata ieri l'ordinanza della Regione Marche, che indicava questi quattro comuni pesaresi più quello alcoletano nella zona micro-rossa, zona micro-rossa, arancione rafforzato, già i sindaci di questi cinque paesi sapevano tutto, perché al mattino si erano confrontati via web con la Regione. E quindi hanno avuto tempo anche per elaborare eventuali dichiarazioni da dare ai giornalisti, così come hanno fatto i vari sindaci a Gianluca Murgia, che questa mattina sulle colonne del Corriere Adriatico ha raccolto e racconta lo sfogo di questi sindaci, Ucchielli, Paolucci e Ferri, zona arancia oscura mossa da dilettanti. Questo è in sintesi il pensiero un po' di tutti i sindaci coinvolti. Quindi, ripetiamolo, da domani Tavuglia, Montelabbate, Vallefoglia, Acquaglia e Cerretodesi passeranno in micro-zona arancia oscura, tradotto, nessun intervento di chiusura su attività economiche e scuole, ma restrizioni da zona rossa per quanto riguarda gli spostamenti. Allora, si potrà uscire di casa, anche all'interno del Comune, ma solo per motivi di salute, studio, lavoro e comprovata necessità. Una misura senza senso, la definisce Cinzia Ferri del Movimento 5 Stelle, che è la sindaca di Montelabbate. Ora, una misura senza senso perché la Regione, che si assumerà tutte le conseguenze, non conosce, dice la sindaca, il nostro territorio. Una buffonata, la definita, perché ci ha convocato, ha decisione già presa da giorni, ci ha convocato la Regione, anche perché l'ordinanza durerà fino alla mezzanotte del 25 aprile. Quindi in cinque giorni cosa può cambiare, si domanda in sostanza la sindaca di Montelabbate. Ora, invece, Palmiro Ucchielli, sindaco storico, uomo del PD, presidente dell'Unione, anche lui non è d'accordo su questa scelta. A noi i contagi risultano in caso. In calo, dice Ucchielli, mi sembra un modo di fare dilettante, anche se per l'allarmismo che si è creato e le spiegazioni che ci siamo sentiti dire, tipo state più attenti. Insomma, ecco, questo è l'Ucchielli pensiero. Ancora, la sindaca feria ha molti dubbi, mi sembra una mossa politica, chiudono i cittadini in casa, ma tengono i negozi aperti. Montelabbate ad oggi ha 25 positivi. Solo confusione e rabbia, invece, dice la sedeca di Tavuglia, Francesca Paolucci. La Regione ci ha riferito che Tavuglia questa settimana ha avuto 32 nuovi casi, ma a noi risultano 58 positivi complessivi. La scorsa settimana erano 46 e 15 giorni fa invece 60. La gente, dice ancora la sindaca di Tavuglia, la gente è esasperata, i giovani non ce la fanno più. L'altro giorno alcuni hanno distrutto lo spogliatoio di una palestra. Una mossa del genere a pochi giorni dalla zona gialla è una mazzata che crea solo confusione e non risolve nulla seriamente. Sempre dal Corriere Adriatico, microzone rosse in cinque comuni, Cerreto è dentro per un solo contagio, Morrovalle a quota 249, invece, è stata esclusa. Quattro sono nel Pesarese, abbiamo visto, Tavuglia, Montelabate, Vallefoglia e Acqualagna. Braccio di ferro nella videoconferenza con dirigenti e sindaci, ecco come si è giunti al provvedimento l'analisi caso per caso. Mentre il sollievo in generale di tutti gli altri comuni che compongono la Regione Marche, il sollievo per i dati, quelli settimanali, e dunque che ci consentiranno di avere il pass, questo famoso pass per la zona gialla, a partire da lunedì prossimo. Incidenza a quota 135 ogni 100.000 abitanti, quindi siamo lontani, molto lontani, da quei famosi 250 ogni 100.000 abitanti. L'anomalia giustificata dai sintomatici, migliorati anche gli indici degli ospedali, area medica occupata al 41, rianimazione al 39. Allora, Sconocchini questa mattina, sempre sul Corriere Adriatico, fa il quadro della situazione con l'occupazione per Covid dei posti in area medica che è scesa nell'ultima settimana dal 51 al 41%, quindi un buon 10% in meno, e si appresta ormai a rientrare sotto la soglia di rischio fissata dal Ministero della Salute al 40%, siamo al 41, quindi ormai ci siamo. Mentre in terapia intensiva, con i 96 posti occupati per Covid domenica, su un totale di 247, quindi anche qui, siamo al 39%, siamo ancora qui rispetto alla soglia minima che è del 30%, un 9% in più, però stiamo scendendo alla grande. e siamo, tra l'altro, ecco, come dice giustamente Sconocchini, lontanissimi da quel 63% che avevamo raggiunto un mese fa, quindi dal 63% di terapie intensive, siamo al 39%, il limite nazionale è posto a 30%, quindi stiamo andando bene. I dati dunque sull'emergenza sanitaria nelle Marche sono diminuiti ancora i ricoveri totali per Covid sono scesi a 656 e soprattutto quelli in terapia intensiva a quota 88, quindi meno 8 persone in 24 ore. Stenta invece purtroppo a piegarsi la curva dei decessi che di norma segue un andamento in ritardo di 3 settimane rispetto alle altre. Anche ieri il bollettino segnalava 9 vittime, 9 persone che sono morte e correllata l'epidemia. Si tratta di 5 uomini e 4 donne d'età fra i 69 e i 96 anni, tutte alle prese con patologie pregresse, ma sicuramente con aspettative di vita più lunghe se non avessero contratto il virus. Sui vaccini, il resto del Carlino, a pagina 5 c'è un po' una doccia fredda ma che ogni tanto ci viene regalata, Figliuolo, il generale, il commissario per l'emergenza, gela le regioni, mancano le dosi, quindi andate piano, rallentate il piano, dice Figliuolo. Se prima l'obiettivo era arrivare a 15.000 somministrazioni al giorno in tutte le marche, adesso non si potrà farne più di 9.500. Il 20% dei sieri saranno stoccati per garantire comunque i richiami. Sui mini hub, quelli che dicevamo i mini centri vaccinali, fanno parte in testa, in poll, in testa. Pesaro più incerta, sarà l'equip del dottor Genga a fare il da apripista alla sperimentazione. Si sta reclutando personale tra gli infermieri e gli operatori sanitari che adesso sono in pensione. I medici del capoluogo dicono noi non siamo ancora pronti, manca una proposta, una proposta condivisa. Si chiede confronto con l'amministrazione e distretto sanitario. Mentre sul fronte economico nuovi spazi all'aperto, il rischio di disparità, disparità tra ristoratori, tra ristoranti, tra chi ha i posti, come vedete, all'aperto, quindi la disponibilità di tavoli e sedie da mettere fuori e chi invece questa possibilità, questi spazi non ce li ha. Sopra luogo tecnico, fra centro storico e zona mare a Pesaro per stabilire le regole, l'assessore Franco e Lucci, Marchionni e Muzzini alla ricerca della quadra. Mentre sulle imposte e la modulistica dalla vecchia Tosap al canone patrimoniale unico, i tributi si accorpano con le agevolazioni previste. A Urbino anche qui il problema delle pedane, dei dehors, così chiamati dehors, insomma per ristoranti, locali e bari, il comune cancella la Tosap, il comune di Urbino, fino a dicembre. È un modo per aiutare, dicono dal comune, chi ha bisogno di spazi. Gambini, Sindaco, vogliamo che la città sia sempre un richiamo per turisti e studenti. Mentre Legambiente, spiazzata dall'abbattimento dei Pini a Castaccolo, sconcertante, il Presidente Bolognini dice non sapevamo niente, nessuno ci ha avvertito di questo modo di procedere, che ha raso al suolo alberi sani e belli. Fermato invece senza mascherina, picchia i poliziotti, un 26enne polacco, appeso, rogiro, vagava da solo sabato sera, il controllo degli agenti si è scagliato contro di loro. Andava in giro, praticamente ubriaco, senza mascherina, sabato sera è stato notato per Villa San Martino, sono stati gli uomini della volante, che perlustravano la città nell'ambito dei controlli anti-Covid, e così lui gli ha detto perché mi fermate, ha esclamato, quando i poliziotti si sono avvicinati a lui, ma quando lo hanno invitato a indossare la mascherina, lui ha cominciato a protestare contro gli agenti e poi la situazione si è fatta incandescente, fino ad esplodere, quando il giovane ha visto i poliziotti estrarre il verbale per contestargli la violazione. Adesso invece, sempre dalla cronaca, Tunisino aveva tre ovuli con 15 grammi di droga in pancia, vede le divise, ingoia, eroina, purgato, e subito dopo finito, messo in cella, portato davanti al giudice, c'è stata la convalida ed è stato rimesso in libertà. Ha intascato 100 mila euro di caparre non sue, a processo, un noleggiatore di auto che lavorava per conto di un fiduciario di Pesero della ALD Automotive, e poi la volante rintraccia la donna scomparsa da casa per drogarsi, altro intervento in zona via Costa per una rissa tra quattro persone tra cui una ragazza, insomma tutti denunciati, mentre sempre questa pagina di cronaca del resto del Callino ci riferisce anche di una serie di controlli in zona Miralfiore, ruba Deodoranti, condannato, denunciato un giovane invece con Ascish. Poi dal Corriere a pagina 15 invece hai fatto la spia e si scatena la rissa, ragazza coinvolta, spuntano i bastoni, la polizia è intervenuta in via Solferino, non metto la mascherina, e aggredisce gli agenti, uomo è stato arrestato, scattano le ricerche invece per una trentenne trovate in stato confusionale dopo aver assunto droga, mentre sulla pagina di Fano si discuta ancora del caso Aset, si torna in commissione, il sindaco ci dica che intende fare, la Lega convoca Seri, Mascarini e Paolini per chiarire le loro dichiarazioni contraddittorie, Scopellitti dice restituire la sovranità al Consiglio Comunale che ha votato per l'autonomia di Aset. La sinistra, progetto di fusione, l'ipotesi è da cassare, auspici, ricorda, la società è patrimonio, Aset è patrimonio dei fanesi, niente immobilità, piuttosto iniziamo a rafforzarla. Voglia di calcetto invece sul Carlino di Fano, calcetto, Campetti che vanno a Ruba, sebbene tra mille incertezze anche lo sport riparte dal 26 e dunque è boom di prenotazione degli impianti. Poi una nuova ferrovia lungo la Fano Grosseto, ok, del Comitato per la ciclovia del Metauro. Dunque riscuote ancora tanti successi. Il bene più prezioso invece questa è una intervista, un'intervista che vi segnalo sulla pagina di Fano del resto del Carlino, un'intervista ad un personaggio chiaramente che tutti i fanesi conoscono ovvero Claudio Pacifici il bene più prezioso dice l'armadietto del nonno che immagino sia questo mentre qua le fotografie della sua casa erede di una dinastia di orefici Claudio Pacifici vive in una elegante palazzina del Seicento in centro storico qui dice ci abitava il Vescovo ed ecco l'immagine di questa bella casa intervistato da Silvano Clappis Claudio Pacifici racconta un po' di sé i soffitti dipinti e pavimenti in cotto erano stati ricoperti io li ho recuperati tutti un tempo sul mobile c'era una radio da piccolo ci ascoltavo il festival di Sanremo sulla riattivazione della Fano Urbino per qualcuno anzi per l'ex sindaco di Saltara Uguccioni la riattivazione della Fano Urbino sarebbe devastante per Calcinelli e non solo per Calcinelli sarebbe una barriera a due passi praticamente dalle case e per appunto Claudio Uguccioni che è stato sindaco dell'ex comune di Saltara dal 1990 al 2004 e poi dal 2014 fino al 31 dicembre 2016 quando ci fu la fusione che diede vita a Colle del Metauro per Claudio Uguccioni appunto c'è questo no assoluto alla riapertura della ferrovia Fano Urbino perché avrebbe un impatto devastante per gli oltre 5.000 abitanti di Calcinelli e per molte imprese locali una voce direi fuori dal coro visto che tutti a parlare a dire quanto è bella quanto è utile quanto ci vorrebbe questa ferrovia in realtà oggi l'ex sindaco di Saltara insomma dice la sua su questa tratta che è ferma ormai da tantissimi anni il processo invece morì schiacciato da un rimorchio i familiari chiedono giustizia sono i familiari di UB Pistor che si oppongono alla richiesta di archivazione di confronti dei proprietari della società di trasporti i cui mezzi causarono la morte dell'ingegnere olandese fu travolto e ucciso vicino a Iesi il 29 maggio marzo del 2019 mentre andando un attimo da Calcinelli a San Costanzo ai vigili servono telecamere e carboni sull'accordo tra San Costanzo e terre roveresche adesso invece andiamo sulla pagina 25 del resto del Carlino perché presto Santa Margherita della Metola avviato questa donna sarà santa parliamo di Santa Margherita della Metola avviato l'iter della canonizzazione Papa Francesco riconosce alle beata mercatellese a 700 anni dalla morte un ruolo di primo piano nella Chiesa mentre sulla rampa interna transennata il cimitero vietato ai disabili siamo a Mondolfo come vedete dalla fotografia è stata transennata una rampa interna che porta al cimitero comunale di Mondolfo il consigliere comunale Massimiliano Lucchetti di minoranza ha depositato un'interrogazione per chiedere all'amministrazione di Mondolfo di procedere urgentemente alla manutenzione di una struttura oggetto di lavori di ampliamento per venire incontro alle esigenze della collettività poi sotto da Pergola gara per la gestione del chiosco dei giardini canone ridotto e altre agevolazioni proposte dal comune proprietario da Senigallia invece ospedale meno covid ma restano i problemi dal laboratorio analisi con poco personale al pronto soccorso il comitato torna all'attacco e chiede interventi urgenti alla regione intanto a Corinaldo oggi funerale di Piero Mancini 70 anni i funerali saranno celebrati domani alle 16 quindi c'è una discrepanza tra il titolo e il pezzo che è scritto qua adesso io non so da che parte stare il titolo dice oggi funerali di Piero Mancini sì però poi non si capisce perché c'è scritto domani alle 16 non lo so vedete voi in qualche modo di riuscire a capire a che ora e quando soprattutto Luna Park invece è bloccato a Senigallia nell'area nell'ex area di Villa Torlonia sono ancora presenti rullotte e pezzi di giostre erano arrivate ottobre dell'anno scorso ma poi tutto è stato fermato tutto si è fermato Circhi Luna Park tutto è stato bloccato e lì in quest'area di Villa Torlonia ancora sono presenti le rullotte del Luna Park ora si discute molto l'Italia è un paese di allenatori di calcio è un paese in cui quando si tocca il calcio fate tutto ma non toccate il calcio ora in questi giorni in queste ore anzi da ieri si parla di questa Superlega molti si stanno stracciando le vesti perché praticamente se prenderà il via questa Superlega sarà la morte del calcio se ne stanno sentendo di tutti colori come se il problema fosse quello del calcio e basta ma comunque detto questo no alla Superlega dicono i pesaresi il Carlino tutte le edizioni del Carlino quindi i giornalisti hanno sentito un po' i vari pareri nelle varie province marchigiane e questa è la pagina 9 del resto del Calino di Pesaro no alla Superlega viva il calcio dei valori i tifosi pesaresi contrari all'ipotesi di un campionato riservato alle sole big alle squadre europee svilirebbe i principi di sportività per esaltare solo il denaro come se fino ad oggi il calcio fosse stato giocato in premio le caramelle vabbè comunque ho rinunciato qui dicono hanno preso insomma un po' di personaggi tutti più o meno sulla stessa linea d'onda ovvero no a questa Superlega che chiaramente la vogliono fare soltanto le grandi le grandi squadre quelle che poi hanno un loro tornaconto economico mi pare di aver detto tutto quello che c'era da dire per quanto riguarda la nostra rassegna stampa le pagine selezionate per voi questa mattina allora una buona giornata trascorrete una serena giornata noi ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale tre giornali che va in onda cui seguirà dopo Guarda chi c'è dove si parlerà di arte per la passamaneria e per l'artigianalità con Piero Forza Giovane per Giovanni Vitalini allora è tutto grazie ci vediamo domani per l'artigianalità per l'artigianalità per l'artigianalità per l'artigianalità Grazie.